La partita gara immediatamente in salita allo stadion di Auckland a Brema, con il Belgio in vantaggio dopo solo 8, grazie alla testa del capo della Bassetta sull'assistenza del capitano Doni. Reazione immediata dell'Italia, trascinata da Luca Coleoscio, nata 2004 nato negli Stati Uniti stati hanno già fatto suo debutto a Liga con Espagno l'hanno giocato nelle squadre nazionali giovanili nazionali americane e canadesi e accettare la chiamata blu l'attaccante coinvolge la prima volta portiere avversario con un grande diritto tocca-tocca la rete, quindi propria tocco mano dall'Italia calcio rigore trasformato da Luca D'Andrea, attaccante Sassuolo, per parziale 1-1 nel verbale del recupero. Della metà punto organizzazione blu è ancora un fallomano nella zona, dal punto vista Francesco Pio Esposito, attaccante nato 2005 primavera dell'Inter del fratello Sebastiano Salvatore, anche lui non è sbagliato.tì il controllo a Zurrini, poi in finale detrillo un'altra penalità, questa volta Belgio, Stroikens batte Mastrantonio. Recupero lungo, quindi il fischio finale è 2-2, il partito italiano può iniziare.